Siamo al Molo San Cataldo dell'autorità portuale di Taranto, qui alle mie spalle potete vedere i catamarani che domani e dopodomani prenderanno parte alla competizione mondiale SailGP. Qui sono stati allestiti anche gli Anger che ospitano tutti gli equipaggi che prenderanno parte alla competizione. Oggi abbiamo una bellissima giornata di sole e vento, domani probabilmente ci sarà un po' più di pioggia ma vento probabilmente un po' più forte e domenica invece avremo molto meno vento e appunto vedremo tutte le condizioni che è fantastico per tutti i team qui perché si potranno cimentare in tutte le diverse configurazioni di queste barche. Come vi preparate per questa competizione? Noi siamo arrivati due giorni fa e ci siamo appunto preparati per la giornata odierna, oggi appunto lavoreremo più sulle partenze se non giornata di pratica in modo da essere pronti domani a essere sui blocchi di partenza al meglio. Sono dei software collegati direttamente con i catamarani F50 che vanno a monitorare le onde, l'ala, tutto quello che succede sull'F50. Tutti i dati vengono raccolti in un cloud e dopodiché vengono elaborati qui e sono a disposizione di tutti i team. Sempre in mattinata presso la biblioteca civica Pietro Acclavio la presentazione dei team partecipanti alla presenza del direttore generale di SailGP di Piase. Siamo super contenti perché siamo già adesso nella quattro stagione, quindi cresce la SailGP e siamo di nuovo a Taranto per una gara veramente speciale. Ci sarà vento, magari molto vento, particolarmente sabato e sabato sera, quindi siamo veramente contenti di essere in Italia di nuovo. Taranto adesso si sviluppa molto, particolarmente nell'ambiente dello sport, anche con i giochi del 2026 e si vede che la città è differente di due anni fa.